Buonasera, siamo al penultimo incontro, il primo dopo la Pasqua e la Pasqua lascia, come dire, le sue conseguenze nella ripresa difficoltosa dell'attività ordinaria. Ricordo il tema di quest'anno, chiamati a vivere l'umanesimo cristiano. Stavo rileggendo alcune frasi riportate nella nostra brochure che potevano aiutarci a introdurre il tema di questa sera. Deprendo dalle parole che il Papa ha detto a Firenze ai rappresentanti del V Convegno Nazionale della Chiesa italiana. Le situazioni che viviamo oggi pongono sfide nuove, che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide, non come ostacoli. I problemi davanti ai quali noi tutti ci troviamo con sensibilità diverse. Il Signore è attivo e all'opera nel mondo. E poi, con un colpo d'ala, sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. Questa sera il tema dell'incontro, l'umanesimo cristiano e il diritto internazionale, ineludibilità di un rapporto non facile né ovvio. E l'abbiamo affidato al Dottor Sandro Calvani, che così viene sfruttato ampiamente in questa sua permanenza a Roma, perché è venuto anche per i 150 anni dell'Azione Cattolica e ha avuto una sua conferenza all'interno dell'Aula del Sinodo. Lo presento brevemente, anche se il brevemente mi ha costretto a fare tagli su ben quattro pagine, è consulente senior per la pianificazione strategica presso la Mai Fai Luang Foundation sotto il padrocino reale di Bangkok in Thailandia. Ha dedicato tutta la sua vita professionale allo studio della innovazione creativa, il pensiero tebole, i metodi efficaci di change management, di gestione e superamento dei conflitti. Nei paesi dove ha lavorato, il Dottor Calvani ha dato priorità a far crescere la libertà e la giustizia che ritiene le due più grandi espressioni dei diritti personali e collettivi. Un piccolo però profilo, credo che sia utile che lo tracci. Calvani ha iniziato la sua carriera professionale nel 1976 presso l'Università di Genova come giovane ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche con studi sulla genetica estranucleare e di organismi monocellulari. Poi ha iniziato ad interessarsi al tema emergente delle migrazioni nel Mediterraneo e come esperto volontario della Caritas italiana aprì a Genova il primo centro strutturato di accoglienza per gli stranieri e gli immigrati clandestini in un porto marittimo, in collaborazione con l'allora prefetto straordinario antiterrorismo, il generale Carlo Alberto della Chiesa. Nell'Ottanta fu scelto come primo dirigente laico della Caritas italiana e come primo responsabile del settore internazionale per gli aiuti umanitari e per lo sviluppo sostenibile. Dopo il terremoto dell'Irpinia dell'Ottanta contribuì a creare le prime reti europee di soccorso nei disastri naturali in collaborazione con Guido Bertolaso. Per due anni coordinò gli aiuti delle Chiese di ogni parte del mondo per le vittime del terremoto nel Sud Italia. Negli anni Ottanta collaborò con le campagne di mobilitazione contro la fame del mondo ideate dal Partito Radicale e con le scuole estive di formazione ai valori della politica in collaborazione con Romano Prodi. In otto anni come capo degli aiuti internazionali del più grande organismo italiano di aiuto allo sviluppo ha diretto e raccolto le risorse finanziarie per centinaia di progetti autosostenibili di sviluppo in oltre 60 Paesi poveri che visitò per contribuire a creare una forte leadership locale per lo sviluppo sostenibile. In collaborazione con le ACLI creò campagne di solidarietà e di studio-ricerca su Paesi in via di sviluppo. Collaborò anche, e lì lo conobbi mi pare, ai tempi della Lega Missionaria Studenti, poi collaborò con il Magis, il GMA, l'Ipsia, il CEM e altri. A partire dall'Ottantadue divenuto i primi leaders italiani dell'educazione alla mondialità, allo sviluppo, all'interculturalità, grazie ad una collana di articoli dal titolo «Dai poveri si impara», uno dei temi sui quali il Papa ogni tanto ci richiama. Fu scelto nell'Ottantotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come fondatore e primo direttore del Centro Pan-Africano per i Disastri, con sede ad Addis Abeba. Nel 1991 divenne il più giovane direttore della regione africana dell'OMS, nel 1992 fu distaccato alla neonata Agenzia Antidroga delle Nazioni Unite, dal 1995 al 1999 fu nominato alla direzione regionale dello stesso programma delle Nazioni di Pericaraibi, nel 1999 direttore generale per il sud-est asiatico ed il pacifico del programma antidroga e anticrimine. Potrei continuare, ma questo avvio già basta a farci comprendere che la parola del dottor Calvani ci aiuterà questa sera a comprendere veramente un tratto di questo umanesimo cristiano, delle potenzialità e delle possibilità sulle quali può esprimersi. A lei la parola, dottore. Sincero ringraziamento al caro padre Ballone e a tutti voi per questa opportunità, per avermi dato l'opportunità di condividere con voi un po' alcuni pezzetti del filo di Arianna che noi internazionalisti incalliti, noi che abbiamo vissuto nel mondo, ci lasciamo sempre dietro e ripercorriamo avanti e indietro ogni volta che ci troviamo nei labirinti globali dell'umanità di oggi, con tante strade incerte da prendere o da tornare indietro a volte. Nella prima slide che dà un po' il titolo, la copertina a questo incontro questa sera, vedete un Giano Bifronte, una persona con due facce. E alla fine mi rappresenta, invece di mettere la mia foto, ho messo questo Giano Bifronte, composto di tanti pezzetti di un puzzle, perché quello sono io, una persona, un battezzato che crede con profonda fede in Gesù Cristo e nell'umanesimo cristiano che discende da Lui e che generazioni di comunità cristiane in ogni parte, in ogni secolo, in terre divise, diverse, hanno contribuito ad articolare. Ma anche, l'altra faccia, un internazionalista fortemente convinto della utilità del diritto internazionale e dei diritti umani che sottendono al diritto internazionale, che l'umanità ha espresso fino ad oggi ed in particolare negli ultimi 70 anni. È da quando ho avuto uso del mio cervello, potrei dire quasi da quando la mamma mi ha messo al mondo, ma da quando ho avuto l'uso della capacità di confrontarmi con gli altri che sto navigando sempre abbastanza a mio agio nell'osmosi tra queste diversità. La mia prima osmosi fu l'osmosi tra scienza e fede, in quanto al liceo sono stato a scuola dei padri gesuiti nella mia città. Un sacerdote, che fu poi l'unico sacerdote e anche l'unico gesuita premiato dal Presidente della Repubblica come un premio per la ricerca scientifica, mi fece innamorare della scienza. Questo amore per la scienza già allora non era facile perché si trovava qualche contrasto con alcune verità di fede. Ma ho imparato un po' che quelle differenze non devono essere muri, devono essere membrane, come le membrane di una cellula. Non sono muri, sono spazi dove si scambiano delle essenze. Da adulto, per decenni, come il padre Vallone aveva cominciato a raccontarvi, sono diventato vecchio vivendo ogni giorno della mia vita tra i più poveri del mondo. Le scelte di prima fila della Caritas italiana nei servizi internazionali mi hanno portato con la Caritas in oltre 60 Paesi, Paesi in conflitto, con gravi disastri causati dall'uomo e umanitario. E poi con le Nazioni Unite, altri 80 Paesi, per un totale di 135 Paesi, dove mi sono confrontato non solo con la mia competenza, il cervello, ma soprattutto più difficile, con il mio cuore, la mia anima e la mia esperienza umana e cristiana con quello che viveva la gente che incontrava. Finora, tra quelle due facce, ci sono stato bene. Le ho sempre viste interdigitate l'una nell'altra, ho fede in ambedue, non credo che abbia senso contrapporle o metterle l'una in conflitto con l'altra. Sono felice dell'esperienza che ho vissuto di doppio servizio, servizio per l'una e per l'altra. Ho scelto per 45 anni della mia vita adulta di vivere così e credo che questa sarà una sfida importante anche per i giovani delle prossime generazioni. Allora, questa sera il titolo abbiamo sentito è umanesimo cristiano e diritto internazionale, ineludibilità di un rapporto non facile né ovvio. Il suggerimento degli organizzatori di questo incontro è espresso, come vedete, in otto parole chiave. Però è evidentissimo che una di esse è fuori posto. C'è una pecora nera in questo bel gregge di parole. Sette parole sono belle, sono eleganti, sono alte, di tutte possiamo essere orgogliosi. Umanesimo, cristiano, diritto, internazionale, rapporto, facile, ovvio. Chi non si innamorerebbe di questa prateria di bellissimi fiori colorati, profumati per il presente e il futuro dell'umanità. Se invece che in un'aula della Gregoriana fossimo una lezione di marketing già il professore vi avrebbe detto che non si può fare marketing in questo modo perché c'è una parola qua che blocca tutto. Infastidisce, è il sassolino nella scarpa, è il sassolino all'ingranaggio, ci mette a disagio, manda tutto in crisi. E quando qualcuno è in crisi, qualcuno ha disagio, il flusso del quieto vivere è bloccato e quella parola impedisce il nostro trantran quotidiano. Essa ci fa deragliare, ci impedisce la routine, crea crisi e la crisi, lo sappiamo tutti, genera conflitto e chissà quanti seccature. Eccola questa parola. Allora vorrei cominciare proprio da lì. Tiriamola fuori questa parolaccia, abbiamo il coraggio di riconoscerla. Il Papa l'altro giorno in sala sinodale ci ha detto non dite le parolacce, lui si riferiva alle parolacce comuni nelle nostre parrocchie, si è sempre fatto così. Ha ordinato tutti i giovani dell'azione cattolica, non dite mai più quelle parolacce, si è sempre fatto così. Ineludibilità vuol dire lo stato dell'essere ineludibile, cioè una situazione che non si può evitare. Io normalmente lavoro in inglese e in inglese questa si chiamerebbe inescapable, cioè una cosa che non si può scappare. Parola ancora più cruda, ancora più difficile a digerire. È un brutto affare trovarsi in un posto, in una situazione dalla quale non si può scappare, perché manca un'opzione fondamentale, una via d'uscita, una via di sicurezza. Per stuzzicare un attimo la vostra attenzione prima di entrare nel cuore della vicenda, immaginate un po' che bello se non ci fosse quella parola. Cioè se il rapporto fosse eludibile, cioè se potessimo scappare, immaginate che bello che sarebbe. Invece che una pecora nera, questa sembrerebbe piuttosto un lupo che vuole mangiarsi tutte le altre pecorelle. Proviamo a pensare un attimo se potessimo scappare da questo lupo, cosa succederebbe? Noi ci impegniamo nel nostro sano, bello, bellissimo da vivere, umanesimo cristiano, lo conosciamo bene, in famiglia, al lavoro, a scuola, in chiesa. Tutti facciamo del nostro meglio per dare aiuto a chi ne ha bisogno. Ci diamo da fare per dare da mangiare agli affamati, ci diamo da fare per dare da bere agli assetati, per distribuire vestiti e coperte a chi ha freddo, ci organizziamo per trovare degli alloggi a chi non ne ha. Aiutiamo gli imbrigati poveri, rifugiati, creiamo strutture efficaci e competenti per curare gli infermi, gli ospedali, mettiamo insieme dei gruppi di persone che vanno a visitare i carcerati, stiamo sempre attenti a essere solidali nel fare un buon funerale per i nostri vecchi e i nostri morti, li seppelliamo cristianamente. Ebbene, negli ultimi secoli le società cristiane hanno fatto esattamente queste, ispirate da queste opere di misericordia, hanno creato dei servizi che sono poi diventate un'espressione normale dello Stato-Nazione in molti Paesi, servizi a disposizione di tutti, senza distinzione di credo religioso né di ricchezza, e in molti Paesi questi sono diventati ormai un'espressione accettata da tutti. Naturalmente poi dopo ci aspetteremmo che, avendo fatto noi questa nostra buona parte di umanesimo cristiano, qualcun altro si occupi dell'alto binario, cioè del diritto internazionale. Magari lo Stato, le istituzioni, le Nazioni Unite, si occupino di rispettare e difendere il diritto internazionale e i diritti umani sui quali è fondato. Mettere queste due pratiche su piani distinti, magari anche un pochino distanti, renderebbe tutto più chiaro per tutti. Non ci sarebbero più malintesi, sarebbe ancora più comodo se questi due binari continuassero a camminare paralleli senza mai incontrarsi e restassero sempre paralleli e non cercassimo di avvicinarli mai troppi. Perché se li avviciniamo allora lì entriamo nelle discipline della Macedonia, della Macedonia di frutta, del minestrone alla Genovese, tra questi, umanesimo cristiano e diritto internazionale. E lì entriamo nell'economia, nelle scienze sociali e nella politica, nazionale e globale. Ieri a San Pietro il Santo Padre alzava la voce e alzava le mani dicendo ai centomila giovani della Nazione Cattolica che festeggiavano i 150 anni, mettetevi in politica. Ma quella grande, quella con la P maiuscola, segnale, no? Quella grande non è dunque la politica del buon samaritano. È quella che si occupa un po' di osservare le strade di Gerico su cui vengono feriti delle persone e camminano anche dei samaritani. Ma capire come mai quegli scenari sono così a volte separati? In realtà per molti secoli separazione senza contrapposizione tra umanesimo cristiano e diritto internazionale c'è stato e anche direi che ha generato ben poco dissenso e ben poco disagio. Oggi invece ci capita questa situazione. Non possiamo scappare dalla relazione. Siamo in realtà un modo per liberarsi ci sarebbe e lo conosciamo tutti, anche superficialmente magari. Non è un segreto per nessuno, lo conoscono in tanti. Basta abbassare un po' la voce, non vedere troppo, non ascoltare troppo, non parlare troppo e stare un po' più zitti, un po' più basso profilo, far finta di niente, tenere la bocca chiusa, le orecchie chiusi e tenere addormentata e tranquilla la nostra coscienza in modo che non si provochino fiamme e incendi nelle relazioni tra queste cose. Un'altra trovata molto furba che ho trovato anche in tanti amici battezzati come me nelle chiese che ho visitato è quella di dire che sono le due lati di una moneta. I due lati di una moneta, lo sappiamo tutti, sono molto diversi, testa e croce, però sono sempre appiccicati l'una all'altra e quindi vanno insieme. No, non è affatto così semplice. Questa ineludibilità non è semplice come i due lati di una moneta. E poi perché non è così semplice? Perché nasce da una natura profondamente diversa. L'umanismo cristiano discende, lo sappiamo, da Dio, dalla natura di Dio e il diritto internazionale, no. Adesso proviamo ad orientarci un pochino quali potrebbero essere le forme corrette. Dato che i miei studenti hanno un livello di memoria molto limitato, oggi succede così nei giovani per le lezioni ascoltate, sono accorto che le immagini le ricordano molto più a lungo. E allora ho proposto due immagini, due cose che conoscono bene, per spiegare qual è questa ineludibilità del rapporto. La prima è una palla di Sepak Takrau, è la palla con e ciò che fa interrompere il gioco è quando si rompe un filo, perché se si rompe un filo di quella palla si scioglie tutta la palla. È tutto profondamente intrecciato. È una grossa matassa, è una matassa organizzata. Questo è il famoso puzzle del cubo di Rubik. Credo che tutti lo conosciate, che tutti ci avviate almeno giocato una volta. Qual è la tentazione comune di chi gioca al cubo di Rubik e non è tanto esperto? Quello di cercare di finire una faccia. Non ci riesco a finirlo tutto, ma almeno ho finito una faccia, faccio tutta una faccia bianca. Poi magari se sono ancora più bravo faccio tutta una faccia verde. E mi restano gli altri quattro facce ancora da finire. E vedrete che per finire le altre facce bisogna rivoluzionare tutto da capo. Bisogna rimettere di nuovo in discussione tutto quanto e ridiscutere ogni minimo dettaglio. Non ne posso neanche tenere uno, quello che avevo già finito e che stava bene, era tutta finita. Ecco, è quel tipo di interazione che vedremo c'è tra diritto internazionale e umanesimo cristiano. Nell'aprile 1967, quindi proprio 50 anni fa, proprio ai primi di maggio, nella chiesa di Riverside a New York, un pastore cristiano battista che si era accorto delle contraddizioni del cristianesimo in America, invitò Martin Luther King, un altro pastore battista e attivista dei diritti umani, a scoprire quello che in chiesa si teneva nascosto. Era il mese dopo la Pasqua, gli dedero un suggerimento come titolo del suo discorso. Il titolo che suggerivano era «è il momento di rompere il silenzio». E Martin Luther King disse queste parole. «Da un lato siamo chiamati a giocare il ruolo di buon samaritano sulla strada della vita, ma quello sarà solo un atto iniziale». «Ma d'altra parte è ineludibile, cioè non possiamo non accorgercene, che tutta la strada di Gerico deve essere trasformata, in modo che gli uomini e le donne non siano più picchiati e derubati in continuazione, mentre camminano sulle moderne autostrade della loro vita. la vera compassione è più che buttare una moneta ad un mendicante. La misericordia non si fa a casaccio e in modo superficiale. Si tratta di accorgersi che ogni struttura che produce mendicanti ha bisogno di ristrutturazione». Mi pare che questo paragrafo riassume bene l'enorme energia di trasformazione che Martin Luther King poi tirò fuori sotto le ceneri strade dei movimenti di fede americani e dei movimenti di diritti americani e lo fece ragionando sagacemente sulle sfide di umanesimo per un buon samaritano moderno. Stava parlando nel momento in cui la guerra del Vietnam aveva infuocato le discussioni sul diritto internazionale e sulla credibilità del diritto internazionale e del sistema delle Nazioni Unite. Esattamente un anno dopo, il 4 aprile 1968, Martin Luther King fu assassinato per le sue idee e cinque anni prima, quando era stato assassinato il presidente John Kennedy, King aveva commentato a sua moglie «continua a ripetertelo, te l'ho già detto tante volte, vedrai che succederà anche a me. Questo paese è malato». Qual era la malattia che King temeva e combatteva? Sospettando a ragione che essa lo avrebbe ucciso. Era la contraddizione fondamentale che lui riservava in un paese pronto a combattere tutti i giorni una guerra sanguinosa, perdere le vite umane dei suoi giovani con milioni di morti per difendere l'idea della libertà contro il comunismo in Vietnam. Cioè un principio fondamentale di diritti civili e politici. Senza riconoscere però nemmeno a casa propria i diritti civili di tutti, sia politici che sociali, e la giustizia per gli ultimi. Un paese così malato da avere i suoi concittadini disposti a uccidere, prima Kennedy, poi anche King, pur di mantenere il silenzio su quelle contraddizioni. Contradizioni che ci sono ancora oggi, 50 anni dopo. Il vero rapporto turmanesimo-cristiano e diritti si gioca nella realtà nei fatti di tutti i giorni, non nel cavillo dei confronti tra idee e ideologie. Almeno io in quello non sono esperto. Io sono esperto di realtà, nel mondo dove ho vissuto. Non sono tanto attento ai dibattiti eruditi. Sono molto attento alle esperienze della gente e queste sono a contare. King concludeva che le strutture che producono giustizia vanno riformate. Era l'inizio dell'aprile del 67, maggio del 67. Questo è un ottimo metaprincipio per basare un rapporto turmanesimo e diritto internazionale. Quelle parole di Martin Luther King, tra l'altro, nelle memorie di sua moglie poi, fu evidente che erano una traduzione fedele del monito di Giovanni XXIII, che nel 1963 aveva ribadito che le strutture della società nazionale ed internazionale devono puntare all'obiettivo del bene comune. Quindi non aveva fatto altro che tradurre nel dibattito americano quello che il Papa aveva detto nella sua enciclica. Quelle parole erano anche una ripetizione della forte denuncia delle strutture politiche ed economiche ingiuste a livello internazionale espresse da Paolo VI. Nell'enciclica Populorum Progressio, che aveva intitolato quei paragrafi la scala dei valori del nuovo umanesimo. A me pare evidente, nella storia recente del mondo, che ogni volta che si affronta una grande crisi come quella che viviamo oggi, un profondo cambiamento d'epoca, l'umanità cerca un nuovo paradigma del vivere insieme, qualcosa di pratico, per capire e interpretare la partecipazione possibile di tutti alla trasformazione necessaria dell'organizzazione della società. Nel dicembre del 1966, quindi quattro mesi prima dell'enciclica Populorum Progressio e del discorso di Martin Luther King, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva approvato la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, così come la Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Ambe due hanno origini dallo stesso consenso globale che ha portato all'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. Ma dato che quella del 48 era stata solo una dichiarazione, non imponeva obblighi agli Stati membri, per questo che poi dopo nel 66 si passò a due convenzioni che invece impongono degli obblighi agli Stati firmatari. La Dichiarazione Universale del 48 rimane l'atto definitivo più importante che l'umanità ha scritto da quando esiste, almeno io la penso così. E mi pare che abbia un forte riferimento alle attese del mondo cristiano. Se la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani può essere considerata, secondo me, la Costituzione dell'umanità moderna, vi ritroviamo molti dei riferimenti delle aspettative, degli incoraggiamenti della rivelazione di Gesù Cristo. Ma l'umanesimo cristiano si fonda sul Gesù Cristo come unica fonte, luce e ragione, mentre gli estensori della Dichiarazione Universale del 48 non sembrano affatto preoccupati di stabilire la fonte o la fondazione dei diritti, hanno semplicemente affermato nel preambolo che il riconoscimento della dignità e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà. Cioè sembra che la Dichiarazione stessa si fonda su se stessa, sull'umanità stessa. Sapete che i trenti articoli della Dichiarazione hanno un'energia impressionante. Ancora oggi è difficile trovare nelle relazioni degli Stati qualcosa di così forte, di così profondo. A me ogni volta che li leggo con calma, uno a uno, li insegno nelle classi ai miei studenti, nonostante l'abitudine che lo faccio da anni, vengono sempre i brividi quando leggo questi articoli. particolarmente i primi tre. Sono così solidi, così potenti, che basterebbero da soli a eliminare ogni dibattito sulla purezza di certe teorie economiche, sociali e politiche del genere umano. Andiamo per esempio uno. Il primo. La Dichiarazione, l'articolo uno. Tutti gli uomini, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti e si sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni e gli altri verso gli altri in spirito di fratellanza. Qui ci sono tre principi fondanti nel primo articolo. L'uguaglianza intrinseca di tutti i 7 miliardi e mezzo di persone che ci sono sulla Terra e gli altri 101 miliardi che hanno vissuto prima di noi, perché in questa Dichiarazione non c'è nessun ricevimento al tempo, quindi tutti gli esseri umani, anche quelli che sono esistiti prima, sono uguali a noi e quelli che vivranno dopo sono uguali a noi. Quindi si tratta di centinaia di miliardi di esseri umani. È un principio fondativo bellissimo questo, anche se molto difficile da digerire, sono probabilmente le due righe più importanti che l'umanità ha scritto. Rappresentano però, se li prendiamo come un'idea, un'idea sconvolgente, difficile da digerire e difficile da accettare e mettere in pratica fino in fondo. C'è poi il riconoscimento dell'esistenza di miliardi di dignità e di coscienze personali. Cioè l'obbligo di azione degli uni verso gli altri. Questo articolo obbliga ogni essere umano a occuparsi di tutti gli altri. Quindi mette fuori legge colui che sceglie la nonazione. Devono agire gli uni gli altri in spirito di fratellanza. Elimina quindi ogni forma di ignavia, qualunque forma politica che dica my country first, il mio paese prima degli altri, in parte che è ridicola come definizione, ma chiunque va su quella linea è fuori della dichiarazione universale. E poi conclude con una definizione direi iperumana del tipo di azione doverosa, lo spirito di fratellanza. Questo è impressionante. Non è spirito di solidarietà, non è spirito di amicizia verso i nemici e non è neanche spirito di misericordia. È spirito di fratellanza. E la fratellanza, se ognuno di noi che ha dei fratelli e delle sorelle, o ha dei figli, fratelli e sorelle tra di loro, sanno quanto si vogliono bene. E quindi qui c'è la grande frattura tra quelle forme di umanesimo che danno più diritti a qualcuno e meno diritti ad altri e quindi questa separazione tra l'I care, cioè mi prendo cura, e loro invece che creano distanza tra me e gli altri e quindi la morte del prossimo. Ci sono poi altri sette righe che vengono nell'articolo 2 e nell'articolo 3 che farebbero sciogliere come neve al sole tutti i dibattiti di politica nazionale, di diritto internazionale e ogni conflitto. Questo è l'articolo 2 e l'articolo 3 che dice che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate dalla precedente dichiarazione e ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona. E questi sono, insieme agli altri 27 articoli della dichiarazione universale, i fondamenti sui quali poi si fonda il cosiddetto diritto internazionale o diritto delle genti. Cioè tutto ciò che riesce ad applicare questi principi fondamentali alle relazioni tra le nazioni. Diritto delle genti vuol dire ius gentium, diritto tra i popoli, è quella branca del diritto che regola la vita e le relazioni della comunità internazionale. Si potrebbe chiamarlo come il diritto della comunità degli stati dove si riconosce la stessa parità di diritto tra uno stato e l'altro e sta al di sopra del diritto e degli ordinamenti giuridici interni di ogni nazione. Anche se molti sistemi giuridici pretendono che il diritto nazionale sia al di sopra di quello internazionale, più volte si è dimostrato che non ha base questo modo di pensare. Però ad una gran parte dell'opinione pubblica internazionale, questa realtà del diritto internazionale sembra piuttosto virtuale, evanescente, lontana dalla vita quotidiana di tutti. Ed è di fatto un sistema di regole quasi del tutto sconosciute alla gran parte della gente e in gran parte perfino sconosciute, perfino gli addetti ai lavori. Ve lo dico per esigenza di verità. Ho partecipato ad alcune regioni del G8, gli otto paesi più ricchi al mondo, quindi anche quelli che hanno le migliori università e le migliori forme di educazione per i loro politici e i loro scerpa, cioè i numeri due che stanno a fianco ai primi ministri, e mi sono reso conto che spesso, al massimo livello di alcuni dei stati più importanti al mondo, non c'è coscienza del diritto internazionale. Questa forma di amnesia, di conoscenza fortemente sbilanciata tra diritti umani, che sono le fondazioni, e il diritto internazionale, che ne è l'applicazione, e sono i doveri degli stati, forse è la causa principale della schizofrenia che vediamo crescere nel malgoverno dei beni globali. Chi sono i soggetti del diritto internazionale? I soggetti del diritto internazionale sono gli stati indipendenti, le organizzazioni internazionali, la Santa Sede, da non confondersi con lo Stato della città del Vaticano, i movimenti di insorti che esercitano un certo controllo sul loro territorio, mentre non sono riconosciuti come soggetti di diritto internazionale i popoli, le religioni, le organizzazioni non governative, le organizzazioni private, a meno che uno specifico accordo trattato internazionale abbia attribuito a loro un particolare ruolo di diritto internazionale, come per esempio la Croce Rossa internazionale. Poi ci sono alcuni antichi e nuovi soggetti di diritto, una specie di ibrido, che rimangono piuttosto indefiniti. Ogni volta che ne chiedo a un esperto che è vista la mia università ne sento una definizione diversa. Ma sono ormai soggetti che sono intervenuti nella vita moderna di gran parte di noi, come per esempio la ICAN, l'International Authority on Internet. Sono quelli che governano Internet, sono quelli che decidono come funziona Internet. È nata come un'organizzazione nazionale degli Stati Uniti. Oggi è una forma di governance internazionale, ma non è ancora soggetto di diritto internazionale. Poi c'è la ILO, l'International Labour Organization, che è un'organizzazione del sistema Nazioni Unite, però atipica. Al suo interno ci sono anche le organizzazioni del patronato, cioè gli impresari e i sindacati. Poi c'è la UNPO, la United Represented Nations and People Organization. Questa organizzazione, che opera all'interno dell'Assemblea delle Nazioni Unite come osservatore, rappresenta 50 popoli ancora non riconosciuti. Cioè popoli che avrebbero il diritto di autodeterminarsi, ma non si sono ancora autodeterminati. Poi c'è la ISO. Questa è un'organizzazione estremamente interessante, è un'organizzazione espressa dal mondo dell'industria, che stabilisce gli standard. Il fatto che voi mi ascoltate è grazie a una decisione dell'ISO, perché l'ISO ha stabilito la misura del rettangolino della mia chiavetta, che io ho consegnato a questi tecnici, che hanno messo in quella cabina di regia e ha permesso la proiezione di questo. Loro stabiliscono tutti gli standard, come deve essere la misura di una lampadina, come deve essere la misura di un computer, come deve essere la vitina che entra negli occhiali di ciascuno di noi, in modo che quando io ne perdo uno vado in Cina e trovo la stessa vita. All'inizio sembrerebbe un po' da ridere, però l'ISO è anche quella che stabilisce gli standard della conservazione dell'ambiente, è quella che stabilisce gli standard del rispetto di alcune norme del lavoro all'interno del posto di lavoro, e quindi stabilisce molte norme della qualità della vita di ciascuno di noi. Poi ci sono quelle che per definizione non sono parte del diritto internazionale, le imprese, che però alcune di esse sono ormai così grandi, prendiamo per esempio la Microsoft, che conosco bene perché mia figlia ci lavora, che è così grande e onnipotente non solo nello stock market, ma anche nel lavoro dei diritti fondamentali. La Bill Gates Foundation, che prende i soldi dalla Microsoft e li distribuisce ai poveri, fa più lavoro di salute pubblica, di vaccinazione, di educazione, di ospedali, di bambini, di quanto fa l'unice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, messi insieme, ed è un'organizzazione privata. Poi abbiamo quelli di cui si parla in questi giorni, Facebook, Whatsapp, Google, queste grandi organizzazioni che aiutano a comunicare e cominciano a decidere del nostro futuro. Come mai Brexit si votò a favore dell'uscita dell'Europa? Perché i social system che hanno distribuito in Inghilterra la campagna elettorale hanno permesso tre falsi in atto pubblico. La campagna diceva diamo troppi soldi all'Europa, falso, la Gran Bretagna è quella che paga meno di tutti, l'Europa controlla l'immigrazione, falso, Schengen, non sono membri di Schengen, quindi un visto per l'Europa non funziona per terra in Inghilterra, l'Europa ha deciso di invaderci con i Romani e i Polacchi, falso, l'Europa non aveva mai deciso niente del genere. Dato che i social non sono un giornale, quindi non pagano, non sono responsabili dei loro falsi, hanno permesso una decisione. Gli stessi falsi che poi hanno permesso di votare Trump, gli stessi falsi che permettono l'avanzamento del populismo. Non c'entrano nulla col diritto internazionale queste organizzazioni, però minano o alcune volte aiutano spavaldamente e sfidano lo status quo delle relazioni internazionali. Abusano dello scudo della sovranità nazionale, vanno al di là delle leggi e dei diritti. Quindi se voi parlate male del re della Thailandia dove io vivo, andate in galera perché vi hanno ascoltato e vi hanno registrato. Se però mettetelo quel commento su Facebook e provocate una sommossa popolare che provoca un po' di morte perché la gente l'ha letto su Facebook, non ci sono responsabilità. Infine in questa bella situazione abbiamo il diritto internazionale bellico, il vecchio indirizzo internazionale bellico perché effettivamente c'ha molte decadi e ha giurisdizione sui conflitti armati. Naturalmente avrebbe giurisdizione se i responsabili delle guerre lo applicassero. Oggi quasi mai le guerre si dichiarano. Non c'è una dichiarazione di guerra da un paese all'altro. Molti dei conflitti che viviamo non sono eserciti con uniformi e quindi sistemi di comando e anche laddove esistono guerre di questo tipo si sono stabilite delle altre forme di interazione come il diritto di ingerenza umanitaria e la crescente giurisprudenza creata da tribunali internazionali di diverso tipo che pretendono di giudicare fuori dei propri confini. È successo nel caso del Belgio dove la magistratura del Belgio ha condannato reati commessi fuori dal Belgio da altre persone in un'altra giurisdizione. Ecco allora che le numerose sfaccettature del poliedrico diritto internazionale permetterebbero da una parte di offrire abbastanza soluzioni per dare soluzioni brillanti e onnicomprensive a tutti gli interrogativi del nostro tempo. Ma la loro applicazione è divenuta così complessa, così diversa e così poco regolata che spesso ci troviamo un po' in una grande minestore dove è difficile andare a riconoscere tutti i pezzetti. Vi ricordate per chi di voi c'era che il padre Elman Salman in questa sala definiva questo rapporto come una reciproca gioiosa e sofferta tra l'umanesimo dei non credenti, la gentilezza dei pagani e quello cristiano. Una relazione che, aggiungeva padre Salman, è conflittuale ma anche trasformatrice. Io sono assolutamente d'accordo con questa sua definizione, ma se vogliamo comprendere come il diritto internazionale e i diritti umani si possono relazionare con l'umanesimo cristiano in modo costruttivo e fondante, fondativo per la giustizia e la pace, dobbiamo identificare anche la carta di fondazione dell'umanesimo cristiano. E su questo dobbiamo essere molto chiari. Come ha già chiarito chi mi ha preceduto in questa serie di conferenze, l'umanesimo cristiano è vecchio quanto la comunità cristiana. Ha lunga storia, varie trasformazioni, ha solide fonti di pensiero, numerosissime esperienze, diverse tra di loro, e anche numerosissime valutazioni di quell'esperienza. Basta pensare, per esempio, alle trasformazioni proposte da Francesco D'Assisi quasi mille anni fa, a quelle proposte da Tommaso Moro. Non so quanti di voi hanno letto il bellissimo libro, Utopia. Tra l'altro in inglese si legge Utopia, e Utopia in inglese si scrive EU, che vuol dire anche un luogo bello, un luogo di speranza, un luogo di sogno, non soltanto un luogo come è il significato, il non luogo come è il significato in greco. Tommaso Moro quello lo scrisse come romanzo, come pezzo di fiction, una specie di edutainment, oggi lo chiamiamo, una specie di Don Matteo dell'epoca, per raccontare a tutti quanti un modo più bello per vivere insieme. E perché lo scrisse? Perché c'era la minaccia crescente della riforma luterana di Martin Lutero. E lui si contrapponeva a quello modo di fare riforma con un altro modo, che era il suo romanzo, in cui si ridisegnava i modi migliori di vivere nell'umanità. Sono riuscito a trovare su ebay un originale del 1516, pubblicato in realtà stampato, fu pubblicato nel 1516 in latino, però pubblicato in inglese nel 1517, quindi esattamente 500 anni fa, e sono andato a rileggermelo. Quante belle trasformazioni suggeriva Tommaso Moro. Molte di quelle lui le aveva estratte dalle esperienze della gente, le cose che la gente gli raccontava, lui faceva anche politica, era consigliere del re, però pensava che tutte le trasformazioni erano tutte possibili e si potevano fare rendendo la gente più felice. Sapete benissimo che poi quando il re gli chiese di portare quelle trasformazioni fino al punto di separarsi dal Papa, dal Pontefice Romano, Tommaso Moro non lo fece e pur quello fu ucciso. Tra i documenti più moderni che ci sono sull'umanesimo cristiano, ce ne sarebbero tanti da ricordarvi, come vi ho detto io mi baso soprattutto su elaborazioni della vita della gente, non tanto su elaborazioni erudite, ma anche io ho i miei documenti che preferisco. Quello che considero un po' la carta costituzionale del moderno umanesimo cristiano è naturalmente la carta costituzionale del Concilio Vaticano II. La Costituzione Gaudium espessa. Sapete che è la prima volta che in un Concilio, oltre che parlare di liturgia, di fede e di chiesa, si parla anche della chiesa nel mondo contemporaneo. Quindi per la prima volta c'è una quarta costituzione nel Concilio Vaticano II, promulgata da Paolo VI ed è l'unica costituzione della chiesa che si riferisce esplicitamente all'impegno della chiesa nel mondo, come la chiesa si propone di cambiare il mondo contemporaneo, non quello degli anni passati ma quello in cui viviamo. essa reinterpreta praticamente tutto ciò, l'esperienza della chiesa, alla luce delle sfide dei beni comuni dell'umanità, le relazioni tra le persone, le relazioni tra le famiglie e le comunità umane. Anche gli altri cristiani non cattolici hanno dato un grande attenzione alla Gaudium espessa e lo stesso hanno fatto anche le dichiarazioni mondiali del Parlamento mondiale delle religioni, di tutte le altre religioni non cristiane, che si riferiscono a molti dei principi che sono enunciati nella Gaudium espessa. Sapete che fu approvata non all'unanimità, l'unica Costituzione che non fu approvata quasi all'unanimità, c'erano 251 voti contrari e 11 voti nulli e quindi l'11% del totale dei voti, il totale fu 2.111 voti. Quell'11% dei voti contrari dimostra che c'erano alcuni dei padri del Concilio che non erano d'accordo e indicano quindi un certo dissenso, un dissenso che probabilmente nella Chiesa di oggi c'è ancora. Non è un fatto trascurabile se consideriamo che tutte le altre liturgie, tutte le altre Costituzioni, quella sulla liturgia, sulla Chiesa, sulla parola di Dio, furono invece approvate praticamente all'unanimità. Sapete tutti che il titolo si riferisce alla gioia e la speranza. Però se andate a cercare queste parole nella Costituzione, la parola gioia e la parola speranza, non le trovate poi così tanto comuni, neanche se usate i sinonimi, per esempio felicità, non solo gioia, è presente solo cinque volte nella Costituzione. In altri documenti di altre Chiese cristiane e dell'umanesimo non cristiano, la felicità è il cuore di tutto. La seconda parola, la speranza, è presente solo diciotto volte nel testo della Gaudium Espesse. Quindi qual è la parola chiave della Gaudium Espesse? Ho fatto fare la ricerca ai miei studenti e abbiamo scoperto che la parola più comune nella Gaudium Espesse è uomo, uomini, umanità, famiglia umana o umano, parole che appaiono addirittura 655 volte. Quindi molte di più di tutti gli altri parole chiave delle Costituzioni ecclesiali e guardate addirittura molte di più della parola Dio che in Gaudium Espesse appare soltanto 200 volte, 202, e la parola Cristo che in Gaudium Espesse appare soltanto 88 volte. L'uomo, l'umano, la famiglia umana 655 volte, il triplo di Dio. Questo quindi indica che il vero leitmotiv della Gaudium Espesse è l'umanesimo. E che tipo di umanesimo? Fa la definizione in questa frase. Teniamo presente l'unificazione del mondo e il compito che ci si impone di costruire un mondo migliore nella verità e nella giustizia. Pensateci un attimo. L'unificazione del mondo è la novità che in quegli anni compariva, come diceva anche Martin Luther King. C'è un solo umanità, c'è una sola terra, c'è un solo pianeta. Sfide nuove. Prima ci giocavamo il nostro essere cristiano all'interno di una comunità, di un paese, di una parrocchia, di una nazione. Adesso abbiamo l'unificazione. Unificazione perché a quell'epoca la parola globalizzazione non esisteva, non era ancora stata invitata. La Chiesa parlava di unificazione che poi è la stessa cosa. Un mondo migliore nella verità e nella giustizia. Quindi la Gaudium Spes non dà spazio al falso. Tutto ciò che è falso non può costruire umanesimo. E poi in tal modo siamo testimoni della nascita di un nuovo umanesimo in cui l'uomo si definisce per la sua responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia. Ho cercato in tutti i commenti, e sono numerosissimi, della Gaudium Spes ovviamente, qualcuno che mi spiegasse in modo autorevole perché io non sono un teologo e neanche un esperto di sacra scrittura o di testi della Chiesa, cosa vorreste dire esattamente che l'uomo si definisce per la sua responsabilità verso i suoi fratelli verso la sua storia. Chi lo definisce? Come si definisce? Se andate a cercare sui dizionari non è quella definizione. Non trovate un dizionario che vi dica l'uomo è quell'essere che è responsabile degli altri. E non c'è neanche tanto di questo nel nostro insegnamento e nella nostra catechesi quotidiana. Fuori dall'umanesimo cristiano il diritto internazionale ha segnato molta più importanza alla giustizia che non alla verità e comunque non ha definito l'uomo come quell'essere che si definisce per la sua responsabilità, la sua capacità di essere responsabile degli altri. Secondo me qua c'è la proposta più rivoluzionaria di tutta la Gaudium Spes. Cioè c'è un'idea in fieri, non ancora del tutto definita, ma abbastanza abbozzata, è un'apertura di una finestra. Se davvero l'uomo si definisce per la sua responsabilità verso i fratelli e verso la storia, allora la natura dell'uomo che abbiamo definito fino ad oggi non era completa, non era adatta al tempo contemporaneo. Qual è la definizione dell'uomo che troviamo sui dizionari? È quella di Homo sapiens sapiens, specie di primati bipedi a cui appartengono gli esseri umani moderni caratterizzati da una capacità cerebrale di 1400 cm3 che hanno capacità di comunicazione con la parola scritta e parlata e dalla creazione e l'utilizzo di strumenti complessi. Quali sono gli strumenti complessi che creano l'umanità? Naturalmente sono l'economia, la sociologia, la politica. Ma nessuno di quegli elementi o strumenti complessi dicono l'economia esiste per essere responsabile degli altri. La politica esiste come strumento di aiuto e di servizio alla responsabilità degli altri. E a dire il vero nemmeno la definizione da biologo, devo dirlo, Homo sapiens sapiens vuol dire intelligente e saggio. Specie sapiens, sottospecie sapiens, intelligente e saggio, perché in latino tutte e due le parole hanno la stessa traduzione in sapiens. Se l'uomo è responsabile degli altri questo andrebbe corretto a mio avviso e dovremmo definirlo Homo sapiens sollicitus, intelligente abbastanza da prendersi cura degli altri. Perché? Perché c'è 1400 cm3 di cervello, moltiplicato 7 miliardi, arriviamo a una cifra di neuroni impressionante, una quantità di intelligenza impressionante. E se questa viene usata per prendersi cura degli altri, cosa potremmo fare? Conoscete una specie che è responsabile degli altri? Pensate alle formiche, pensate alle api. Bene, le formiche e le api hanno un cervello grande quanto un seme di sesamo, cioè 20.000 volte più piccolo di quello di un essere umano. E ha una capacità di 7 centesimi di centimetro cubo. Hanno così poco cervello le api che riescono a prendersi perfettamente cura di tutti gli altri. Allora, se l'uomo si definisce in questo momento della nostra storia come uomo che riesce ad essere responsabile degli altri, quella definizione, a mio avviso, andrebbe trasferita anche nel modo in cui definiamo proprio l'essere umano. Peraltro, mi pare che essa corrisponde perfettamente al mandato della buona novella di Gesù Cristo. Vi do un comandamento nuovo che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Così amatevi gli uni voi e gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Servete amore gli uni per gli altri. Quindi cos'è il segno, il simbolo dell'essere cristiano? È la capacità di amare gli altri. E qui forse si dovrebbe aprire una parentesi, ma certamente non abbiamo il tempo, ma se mai ne possiamo parlare dopo nel dibattito, delle relazioni, secondo me, piuttosto deboli che ci sono nella Chiesa contemporanea tra i dettati delle altre costituzioni, delle altre tre costituzioni, e il dettato della Costituzione sull'umanesimo. A mia personale opinione, la liturgia, i modi che i simboli abbiamo del nostro amarci dovrebbero essere molto più chiari. Credo che per un cristiano essere battezzato è tanto, comunicarsi con la comunità è ancora di più, basta e avanza. Se un cristiano davvero cresce a tal punto, nella sua maturità da giovane adulto, da essere capace di divenire responsabile degli altri, allora deve essere confermato di fronte alla comunità, non certo a 13 anni, e giocarsi la vita nel mondo contemporaneo. Un minimo di formazione, per lo meno ogni cresimato sei mesi in un quartiere più povero della sua città o del suo paese, o sei mesi in un paese povero, basterebbe che ogni parrocchia mandasse ogni cresimando in un'altra parrocchia a testare le sue capacità di essere uomo responsabile degli altri. Se no, che razza di soldato di Cristo è? Se il giorno dopo della cresima è tanto battezzato e comunicato quanto il giorno prima. Questa trasformazione della Chiesa del mondo contemporaneo è urgente e è l'interrogativo più profondo del genere umano. Vorrei andare verso la conclusione, ma prima di andare verso la conclusione vi vorrei dire che perfino la Gaudium Espresso già sapeva, i padri presenti, perché non ce la facciamo. Perché è così difficile tradurre quella responsabilità in strumenti di liberazione del mondo. E lo dice, in verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno dell'uomo che molti alimenti si combattono a vicenda. È nel nostro DNA. Da una parte come creature esperimenta in mille modi i suoi limiti. Dall'altra sente di essere senza confini nelle sue aspirazioni. Ho conosciuto milioni di giovani che hanno queste aspirazioni e chiamano a una vita superiore. Sollecitato da molte attrattive è costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunziarne alle altre. Inoltre, debole e peccatore non di rado fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe. Questo è l'unico brano della Gaudium Espes in cui si usa la parola peccatore. Quindi la Gaudium Espes definisce il peccato come una mancanza di umanessimo, come colui che fa quello che non vorrebbe e non fa quello che vorrebbe. Opinione mia, ma mi pare che il testo sia abbastanza chiaro. Secondo alcuni studiosi anche il diritto internazionale ha queste debolezze e vi lascio il testo scritto, una mia analisi di coloro che dicono che i diritti internazionali in realtà non esistono, che sono stati inventati da noi come forma di soluzione urgente alle tematiche del mondo. Io credo invece che il diritto internazionale va riscoperto in tutta la sua grandezza. Veniamo alle contraddizioni e alle difficoltà di questo rapporto ineludibile per concludere. Prima di tutto, tra le tante assonanze che è facile rilevare tra l'umanesimo cristiano e il diritto internazionale, la prima, quella che mi pare più importante, a me pare anche la più bella, è la straordinaria coincidenza di importanza che si dà nell'umanesimo cristiano e nel diritto internazionale alla tollevanza religiosa e il diritto di professare qualunque fede, compreso anche il diritto di non professare nessuna fede. In questo c'è totale identità tra il diritto internazionale, i diritti umani e l'umanesimo cristiano. L'intollevanza religiosa continua ad essere la principale fonte di conflitto e di sofferenza nel mondo, sia in termini di conflitto tra le religioni stesse, sia come fattore di generazione di conflitto tra gruppi etnici e politici. Hans Kung ha ripetutamente messo in guardia non ci sarà pace tra le nazioni senza pace tra le religioni. Quindi l'intolleranza religiosa contro individui perché credenti, come documentato da Amnesty International, può assumere la forma di persecuzione per blasfemia, eresia, apostasia e altre trasgressioni di fede, persecuzioni per rifiuto di particolari tradizioni, per proselitismo, assurdi divieti di immigrazione o condanna dell'obiezione di coscienza al servizio militare. Quindi discriminare una religione, diminuire i diritti di una religione, dire quella religione ha meno diritto di quell'altra è un grave abuso contro l'umanesimo cristiano e contro il diritto internazionale. Ma sono tantissime le assonanze, le similitudini sistemiche tra il progetto di umanesimo cristiano e il diritto internazionale, ma sono anche importanti le differenze. Alcune sono atroci, alcune forse non sono così importanti, sono anche trascurabili. Mi pare che non sarebbe intellettualmente onesto venire qui e far finta di non saperlo o non dirvelo. Una prima categoria di diversità rilevante, spesso forse esagerata sia da parte dei cristiani che da parte dei cattolici e anche da parte dei non cristiani, è una specie di, usata spesso come una specie di cartina di torna sole per distinguere i buoni dai cattivi, oppure il solito fossato tra noi e loro. Tale diversità fondamentale è quella relativa ai diritti di espressione della sessualità, compresi gli orientamenti sessuali. In questa diversità vi sono almeno una identità e tre o quattro differenze. L'identità è che i due paradigmi, sia l'umanismo cristiano che quello dei diritti, rifiutano categoricamente ogni forma di discriminazione dovuta al genere e all'orientamento sessuale. Però poi ci sono altre tre o quattro differenze. Una differenza forte è che i cattolici definiscono il diritto alla famiglia e al matrimonio solo tra l'uomo e la donna, mentre il diritto internazionale afferma il diritto a creare una famiglia tra persone che si amano. Su questa differenza si deve tenere presente che altre confessioni cristiane la pensano invece diversamente. E lì c'è poi di tutto, di opinioni, perché ci sono addirittura delle confessioni cristiane che sono identiche al cattolicesimo, quindi che rifiutano il matrimonio tra due uomini e due donne, però lasciano le congregazioni, diciamo, loro le chiamano così ma sono le parrocchie, liberi di decidere se concedere il matrimonio ai gay o alle lesbiche. Io vivo in Thailandia, un'esperienza che posso comunicare perché non è comune a tutti. La Thailandia è un paese con la più antica storia di tollevanza verso i gay, le lesbiche, i transessuali, i bisessuali e gli interessuali. Naturalmente non è questo il posto di discutere il contenuto della dottrina cattolica. L'unica testimonianza che posso dare per assolutamente certa è che la presenza di altri modelli non hanno mai minacciato la forza della famiglia. La famiglia thailandese è una famiglia fortissima, tanto quanto la nostra famiglia di antica tradizione cattolica, e convive insieme ad altre forme di famiglia. Un'altra differenza un po' meno forte è relativa all'insegnamento della Chiesa cattolica sul fatto che ogni atto sessuale debba esprimersi soltanto tra persone sposate e debba essere sempre aperto alla possibilità di riproduzione. Gli studi più recenti in grandi comunità cattoliche dimostrano però che le pratiche di vita, sia nelle coppie sposate che nella popolazione in generale, si sono allontanate parecchio da questo insegnamento con una tendenza sempre crescente di allontanarsi dalla dottrina ufficiale. In Europa, per esempio, in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna usano comunemente la contraccezione tra il 70 e l'80% delle donne in età fertile. In Asia si registrano percentuali simili, in Thailandia, dove i cattolici sono 0,2% della popolazione, come nelle Filippine, dove i cattolici sono l'86% della popolazione. Quindi non sembra che quell'insegnamento si trasformi in una pratica diversa tra un paese cattolico e uno che non la è. Un'altra categoria importante di diversità è relativa al diritto bellico. L'umanesimo cristiano tende sempre a privilegiare la pace e la risoluzione negoziata dei conflitti che emergono tra i popoli all'interno delle nazioni. Il diritto internazionale bellico e quello umanitario articola invece una complessa graduazione di regole per limitare la natura dei conflitti e regolamentare i comportamenti leciti durante il loro svolgimento. L'ultima diversità che voglio menzionare è relativa ai sistemi giudiziari. L'umanesimo cristiano dà assoluta priorità al perdono e alla riconciliazione, con una particolare attenzione ai diritti delle vittime. Privilegia la riabilitazione dei colpevoli, esclude in modo tassativo la pena di morte. Il diritto internazionale concentra invece maggiore attenzione sulla collaborazione per la repressione dei crimini e un trattamento dei prigionieri che mantiene un carattere prevalentemente punitivo. La giustizia restaurativa, che è nata in paesi cristiani, in particolare in Australia, sta emergendo in alcuni paesi come alternativa ai sistemi giudiziari e ai sistemi carcerali. In conclusione, uno sguardo sul domani. Oggi c'è un solo mondo e c'è una sola umanità. Quello che ho imparato nei miei visiti a 135 paesi e lavoro con 135 popoli per 35 anni nel nord e nel sud del mondo è che anche coloro che credono di avere le chiavi più belle, le soluzioni più belle a questi interrogativi di umanesimo e di diritto, spesso si dimenticano di un fatto fondamentale. Tutte le chiavi che conosciamo vanno tutte infilate nella stessa serratura e c'è una sola serratura. È una sola e molte persone non l'hanno mai vista e non sanno manco che esiste. Possiamo avere tutte le chiavi che vogliamo vanno tutte infilate in quella serratura. E chi non ha la più pallida idea di che cos'è quella serratura può contribuire poco. Quella serratura è che c'è un solo mondo e una sola umanità. Tutto ciò che continua a ripeterci che non è così, che bisogna fare dei muri, che bisogna fare delle frontiere, che noi siamo più bravi di loro, che una religione è più importante dell'altra. Tutto ciò va contro la scoperta di quella serratura dove tutti dobbiamo infilare le chiavi. Siamo tutti collegati, oggi siamo tutti interdipendenti e ho toccato con mano che tutte le applicazioni pratiche di questi fondamenti, l'uguaglianza, i diritti umani, l'accesso equo ai beni comuni, la collaborazione, la solidarietà, rispetto di ogni dignità umana, tutti i dibattiti sul clima, sulla finanza, sulla politica, sulla nostra scelta di vita quotidiana, tutte sono atti piccoli di quel grande puzzle mondiale che è la nostra unica barca, l'unica navicella, la navicella Terra e non ce ne sono altro. In fondo ce ne dimentichiamo troppo spesso. Ci dimentichiamo che abbiamo questo unico pianeta, questa unica umanità, questo unico DNA e che siamo tutti uguali. Addirittura perfino nelle attuazioni di alcune dei messaggi della pace che hanno scritto i papi per 50 anni, le encicliche sulla pace che hanno scritto i papi, a volte sono state interpretate in modo inaccurato, separando pace da sviluppo, giustizia dalla pace. In realtà non è e non era vero. Pace e sviluppo sostenibile sono tutte espressioni dell'unica umanità, della stessa questione posta in modi diversi. Vanno questa tendenza quindi tutte le ricerche che ci sono a livello internazionale, di una nuova forma di umanesimo che rispetti i diritti e il diritto internazionale. All'inizio di quest'anno il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Antonio Guterres, che è un cattolico portoghese, nel suo primo discorso al suo staff, interrogato da un membro dello staff che gli diceva guarda che c'è molta confusione. Non riusciamo più a controllare i conflitti, ci sono molte contraddizioni, non riusciamo a far sedere i più potenti e i prepotenti allo stesso tavolo. Lui se ne è venuto con questa espressione che non era scritta e che gli è venuta un po' così spontanea, forse dalla sua stessa fede cristiana. Alla fine si tratta sempre di valori. Vogliamo che il mondo che erediteranno i nostri figli sia definito dai valori sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. La pace, la giustizia, il rispetto, i diritti umani, la tolleranza, la solidarietà. Tutte le religioni più importanti li abbracciano e tutti ci sforziamo di rifletterli nella nostra vita. Molto spesso le minacce a questi valori sono causate dalla paura. Abbiamo paura di cambiare. Non dite mai quelle parolacce, si è sempre fatto così. Il nostro dovere verso i popoli che serviamo è quello di lavorare insieme per passare dalla paura degli uni per gli altri ad avere fiducia gli uni negli altri, fiducia nei valori che ci legano e fiducia nelle istituzioni che ci servono e ci proteggono. E questo non è soltanto teoria, non è soltanto pratica, non è soltanto testo che viene dalle consultazioni dei popoli, dalle filosofie moderne e anche l'espressione di vita di milioni di bambini. Quello che io ho visto sulle facce dei bambini, anche nei paesi più disastrati, anche durante la fame, anche durante i campi dei rifugiati, ti vengono sempre intorno tanti bambini. E i bambini del mondo sorridono tutti nella stessa lingua. È la lingua della speranza. Vi lascio questa rappresentazione perché ve la portiate a casa con voi della inseparabilità tra tutte queste cose e vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie.